ecco due bei porcini qui capo nero una sto accogliendo ora giovani e uno è un po più su e sto accogliendo ma con il lavoro un po più grosso bello che non sembra ecco il fungo ancora giovane questo ciao ecco un altro bel porcino nero giovane eccolo bello è ancora bianco sembrerebbe che stessero uscendo ora ciao ecco un bel porcino giovane e bello sulla cinefresa ora lo giro poi su bianco sotto un bel gambo ora ho visto un altro spiantato dai cinghiale devo prenderlo vedi qui ci hanno girato i cinghiali guarda bello anche questo c'è il gambo magari un po' e rimangono anche i cinghiali ciao primi due funghi porcini della mattinata sono sempre del capo nero e anche sotto questi sono belli c'è un nord due gambe e un caffo sono tutti ad attaccare il caffo bene ciao un altro porcino col capo nero un po' più vecchio questo ciao primo ovulo della stagione ecco 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 questo un po' po' piccolino sempre il capo nero un po' misero un altro porcino, si trovano sempre soli questi porcini, che per ora c'è proprio una fungata il vero è un altro porcino, è un altro porcino, il vero è un po' di più e il cervello poca roba per ora ora hanno trovati uno due tre quattro cinque tutti vicini sembrerebbe come qui ti promettesse bene ecco una uno guarda bello questo colgiamo tutto di curvo sempre porcini neri e poi qui ce n'è un altro dato a piedi dello scopo sempre un porcino nero qui ce ne sono altri mi sembra due grossi un po vecchi questi sono vecchi comunque si prende questo questo non c'è male poi ce n'è uno qua che è un po più vecchio e questo un po più grosso e vecchio ecco ecco sempre sempre porcini neri eh ora qui ci ho girato per niente ora faccio un giretto a me visto non è trovato è fu . . . . . . . . . Questa mi sembra più bello di tutti questo, sempre porcino nero, eccolo, questo è anche giovane, ora guardo un pochino qui, ciao, un pulcino piccolino, sempre nero, però questa c'è una managgiatura bianca sul capo, l'ho visto per quello, se no non l'ho visto, ecco, questo è piccolino, questo è appena di misura, questo sarà a 4 cm di diametro di cappella. Dopo tanto girare ho trovato un porcino col capo chiaro, un roldo, giovane, questo però non è il capo nero, non è il capo chiaro, è un porcino di quegli estivi. Ora hanno trovato i quattro piscini, uno proprio il capo nero, bronzino, bronzato, piccolino, giovane, poi ce ne sono due, un po' più su, belli, uno più grosso e uno più piccolo. questo è giovane, poi ce ne sono due, che è più grosso, bello anche questo, è anche un po' più vecchio, però, sempre giallo sotto, poi ce ne è ancora un altro qua, anche questo giovane, ecco, questo, bianco sotto, ecco il capo nero. ciao